Se è una buona annata per il vino, significa che è una buona annata anche per la grappa? A questa domanda mio padre di solito rispondeva con un proverbio. Lui diceva, se la cantina piange, la distilleria ride. Con questo voleva dire che se l'annata non era particolarmente buona, l'enologo doveva appigiare più dolcemente l'uva, lasciando quindi la vinaccia grondante di mosto o di vino. E' quindi perfetta per fare una grappa di buona qualità. Quindi non c'è una relazione diretta fra la qualità dell'annata del vino e la qualità dell'annata della grappa. La qualità della grappa dipende principalmente dal modo con cui l'uva è stata appigiata e quindi dalla ricchezza di mosto che è rimasto nella vinaccia. Questo motivo per cui non vediamo quasi mai l'annata indicata nell'etichetta di grappa, con rarissime eccezioni. Buona grappa a tutti!